Per ora vi presento un modo team di altissimo livello un team che potrebbe fare molto bene al giro di Italia, from Madolans il contore sportivo di Copernac, Lavo Banca! Contro 161 per la nostalgia, da un'incipitore in carriera un grande velocista, Mark Renshoff Contro 162, da IUM, Spagna nato nel 1976 campione spagnolo nel 2005 un secondo San Sebastian ha vinto una tappa a zero, una tappa a tour e una tappa a la guetta signore e signore Lenny, se il centro non è un po' a mano e le garate 163, campione del mondo del chilometro in pista, Kering nel 2006 velocità nel 2004 2006-2007 Fiamossa 164, da Olanda Tom Pilser 165, pensiamo nella corona del 2007 da Olanda, Sainz, Clemente 166, da Nova, Germania, Grisha, Birman Siamo a 30 secondi, il 267 da Kroenigl, Olanda, Tom, Vienden, Slatter 268, campione olimpico del Madison nel 2004, insegnamento a scuola del 2004 capitano dei fondi, insegnamento a scuola del 2003 Silvia, Tim familia, Grisha, Carlin, Bra suka Luz RTino, ho la città di Eddie Spengen, Olanda 16h, 20h Siamo a 300 Grazie